Sarà la stazione marittima a fare da sfondo al party per i 20 anni del golf club Salerno, unica struttura dedicata in tutto il territorio salernitano e tra le più accreditate in regione. Nel 1999, con la realizzazione del campo pratica e poi man mano delle nove buche, il golf club, situato sul litorale di Ponte Cagnano-Faiano, è divenuto il punto di riferimento per gli appassionati di questo sport, che anno dopo anno hanno costruito una grande squadra coesa e compatta, aprendo ai neofiti con eventi ed iniziative tese a far scoprire i pregi di una disciplina sportiva sorprendente ed entusiasmante. Tante le presenze annunciate, si attende il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, i deputati Piero De Luca e Mara Garfagna, ma anche volti noti della stampa, dello sport e dello spettacolo. Al prossimo episodio